ma buongiorno ciao ben ritrovati come state ragazzi spero bene e soprattutto spero stiate andando a pranzo e non so se io vi farò un po sorridere insomma vi farò così vi terrò compagnia di nuovo una diretta di circa 15 minuti per farvi vedere cappi freschi frizzanti e giusti per questo clima insomma per accontentare un po tutte sia le tasche che i gusti e facciamo ricordiamo un paio di cose insomma per l'inizio così di questa di questo road to natale 2023 insomma per il percorso che ci accompagna sui regali sulle varie diciamo così opportunità che ci saranno durante questo mese vi ricordo intanto che saremo aperti tutte le domeniche con orario continuato dalle 10.30 alle 18.30 quindi anche questa domenica 3 ricordo che siamo aperti anche l'otto e se andate sulla pagina e anche leggendo insomma il testo del del video sotto troverete tutte le date insomma in cui siamo aperti importante vi evidenzio il link che c'è sul su questa diretta del dove potete sfogliare nella nostra piattaforma online i cataloghi un po la outfit bible la bibbia degli outfit come la chiamano in inglese che ho predisposto con tutti gli articoli e anche cliccabili quindi certi li potete acquistare quindi molto facile per la scelta dei regali non sapete cosa fare vedete il prezzo direi una guida interattiva veloce immediata che si può scorrere sia su telefono che da tablet o da computer quindi ricordo diciamo quindi l'apertura di domenica e un po questa outfit bible che ci accompagnerà e stasera avremo anche un'altra bella novità o stasera o domani sera un attimo devo vedere intanto saluto Eleonora che si è appena collegata ciao Eleonora e io che dire comincio a darvi degli input un po per il cambio outfit di voi uomini ma anche per voi donne magari per i regali e cominciamo con diciamo i maglioni scusate oggi vi presento Shockley brand italiano che fa maglieria molto bella bei pesi non eccessivi ma caldi e soprattutto particolari cominciamo con questo maglione in lana cotone quindi una bella pesantezza non eccessiva ma comunque abbastanza calda di forte impatto perché praticamente è nella parte anteriore in questo bel beige col collo diciamo in profilo in contrasto la manica grigia con la tasca dedicata a righe che riprende la parte posteriore quindi guardate la particolarità di questo capo disponibile in due colori due colori sono uno è questo nel colore della terra vi dico anche il prezzo qui siamo gratis pensa che bene è caduto e adesso vi faccio vedere il secondo colore questo viene 142 euro da scontare un pochettino ed eccolo qua disponibile nei due colori quindi base marrone beige col grigio e base carta da zucchero azzurro con le maniche sempre grigie e questa rigatura posteriore orizzontale micro riga marrone e beige quindi due colori molto facili vi faccio vedere anche la particolarità delle toppe che richiamano un po' la riga posteriore proseguiamo sempre con questo filato lana cotone che ragazzi è veramente un filato pregiato perché ha la dotte della leggerezza ma allo stesso tempo del calore e da indossare magari anche a pelle qui ve la presento in un maglione disponibile in tre colori con il collo dei profili del collo dei polsi in contrasto qui abbiamo la carta da zucchero col profilo grigio e la righetta posteriore rossa ed il polso che viene accompagnato lungo con questo color verde verde foresta se vogliamo ragazzi eccolo qua ve lo faccio vedere in questo modo spero si percepisca quindi un maglione facile con i dettagli piccoli dettagli che arricchiscono la grafica di questi maglioni sempre caldi dove vi presento anche l'idea italiana del maglione cosa vuol dire la fattura il fatto che la cucitura della spalla è posteriore quindi voi anteriormente non vedete niente due colori abbiamo l'azzurro con questi profili e questo bel verde foresta con questo colore sulla manica olio d'oliva lo chiamo io molto bello il collo di questo maglione base grigio con ovviamente il piccolo marchietto sul cuore e olio d'oliva nella parte posteriore quindi due colori eccoli qua molto facili tutti questi maglioni sono disponibili al prezzo di 136 euro e le taglie di questi maglioni ragazzi vanno dalla taglia 48 alla taglia 58 60 quindi vestiamo anche diciamo persone un po in carne proseguiamo poi sempre col filato lana cotone un filato morbido leggero di qualità e che non fa pallini colore molto bello olio d'oliva lo chiamo io impreziosito e arricchito da questa diciamo riga posteriore azzurra quindi molto forte che viene richiamata anche sul polsino abbiamo la scrittina ricamata sul polsino vediamo se riesco a farvi vedere ci arrivo eccola qua molto bella particolare quindi viviamo di dettagli tre colori olio d'oliva bluet con la riga arancio quindi il dettaglio che lo vedete anche sui diciamo polsi molto bello sempre cotone lana quindi filato che non fa pallini prezzo 136 euro anche di questo capo ragazzi quindi il cotone lana che è un must di quest'inverno visto non eccessivo freddo da indossare a pelle da indossare magari con la camicia saluto anche graziano che si è appena collegato ciao graziano proseguiamo poi con due colori sempre nel filato lana cotone quindi che non fa peeling in cotone diciamo lana cotone è un po più elasticizzato questo è un maglione disponibile nella versione blu giro collo sempre vestibilità un po in figura una bella mano arricchito dal dettaglio del polsino diverso sia sinistro che destro sinistro col giallo destro ragazzi col verde live e sul collo l'arancione un po più minima due colori abbiamo il blu ed il grigio quindi colori un po più classicetti ma soprattutto con una bel bel filato vestibilità in figura guardate la bellezza di questi maglioni prezzo un maglione come questo viene 123 euro dopo da scontare un pochettino saluto anche fabio e marco che si sono appena collegati cominciamo invece con un po di fantasia quindi cominciamo con dei maglioni stampati sempre cotone lana qui abbiamo lo ski man quello che fa la preschi quindi cuffia immagine molto forte da uomo con barba e cuffia colorata base grigia con tutti i dettagli turchesi in contrasto una bellissima mano disponibile in due colori base grigia con questo uomino tono su tono oppure base royal sempre con i contrasti turchesi come li vedete che vengono anche richiamati dai ricami dei piccoli embroidery sul sulla manica in questo royal un po più forte quindi ve li faccio vedere così perché così riusciamo a percepire le due stampe un giacone come un maglione come questo è un maglione che ha una lavorazione importante perché questo ovviamente non è applicato il tessuto nella maglia e secondo me è un bellissimo filato viene intorno ai 159 euro da scontare un pochettino anche qui disponibile dalla s alla triple xl poi ragazzi proseguiamo con quattro colori di un maglione che è un best seller questa cominciamo a parlare di lana elasticizzata merinos quindi anti peeling leggerissima ragazzi un velo elasticizzata quindi un filato prezioso morbido che ha come dire accompagna da sotto giacca mezza stagione risolve tantissime situazioni tutte tinta unita quindi molto pulita e molto minima come gusto e abbiamo quattro colori carta da zucchero ragazzi guardate che bellezza vinaccia un colore di moda quest'anno molto molto forte immaginate se siete rossi se siete biondi se siete anche col capello scuro terzo colore un po più più classico base beige quindi lana merino sempre elasticizzata ragazzi quindi filato leggero ma confortevole e caldo guardate che bellezza terzo colore beige quarto colore il nero quindi veramente qui spaziamo ve li faccio vedere in questo modo quattro colori partendo da sinistra azzurro vinaccia beige e nero prezzo di questi maglioni ragazzi facilissimi 140 euro ma di una grandissima qualità guardate come quattro capi stanno in una mano sola proseguiamo poi con un po di gioia con la maglia più bella e più stampata eccola qua ragazzi i segni delle carte base sempre cotone lana più cotone di lana appunto per la lavorazione un cotone un maglione di forte impatto base blu con tutte queste stampe davanti ovviamente abbiamo tutti i segni quindi il re la regina le picca i cuori è molto forte come immagine uno dei maglioni che abbiamo già venduto bene anche il maglione forse più importante perché siamo a 168 euro ricordiamo anche che voi potete selezionare il maglione che vi piace indicandolo con whatsapp indicandolo diciamo così nei commenti e possiamo tranquillamente spedirlo a casa con corriere con una piccola spesa insomma per la spedizione comincio continuo a salutare ancora un po di amici saluto ida e fabiana che si è appena collegata ciao ragazze proseguiamo con l'ultima parte della diretta dove vi mostrerò il tessuto tecnico un come dire un tessuto molto amato perché ha un bellissimo rapporto qualità prezzo che risolve molte situazioni guardate ad esempio questo cardigan che sta indossando di petterei nero che ha la dote di essere elasticizzato quindi confortevole caldo ragazzi sono capi veramente molto facili si lavano la sera per la mattina sono asciutti qui abbiamo due versioni in cardigan abbiamo la versione in base blu con un bellissimo rapporto qualità prezzo ragazzi apprezzatene guardate l'elasticità questo diventa quasi un capo elegantino quindi base blu e base asfalto grigio molto facile tessuti tecnici che sono entrati nella quotidianità qui però abbiamo qualità di materiali a 145 euro poi abbiamo due perdono tre scelte dove il tessuto tecnico è stato esteso a un modello che l'anno scorso non c'era la hoodie la felpa col cappuccio quindi lo stile college americano però fatto col tessuto elasticizzato tecnico ve lo faccio vedere in questo modo quindi anche facile da infilare e spirare tre colori disponibili base blu base asfalto quindi vedete che i due colori un po' che la fanda padrona sono questi due guardate la bellezza di questa felpa questa è una felpa maglia diciamo così terzo colore il verde foresta quindi abbiamo i tre colori che qui vedete ve li faccio percepire in questo modo partendo da sinistra blu asfalto e verde foresta prezzo di queste felpe ragazzi gratis vediamo se è gratis veramente no non può essere gratis 136 euro un prodotto con rapporto qualità prezzo molto molto bello devo salutare un pochi di amici che si sono collegati adesso e quindi saluto carlotta con la cappa concetta vanesa giuliana michela rosa e arcangelo e fabio che lo ringrazio per il saluto proseguiamo poi con gli ultimi due capi che sono secondo me due capi molto particolari il cardigan con la tasca quindi full zip quindi la rivisitazione moderna in chiave moderna di un capo storico col tessuto in 3d quindi lavorato in rilievo come lo vedete col collo alla coreana disponibile in color asfalto disponibile anche in taglia dalla 48 alla 58 165 euro di listino disponibile nel colore asfalto e nel colore nero guardate la bellezza anche del nero questo è un capo molto comodo e soprattutto caldo ragazzi veramente un capo un capo facile eccoli qua guardate la bellezza di questi due capi asfalto e nero ragazzi che dire oggi ho terminato vi ho fatto vedere questa bella diciamo così qualità e varietà di maglioni perché noi come maglieria ne abbiamo tantissima saluto anche luca che si è appena collegato ciao luca vi auguro buon pranzo ricordatevi qualsiasi informazione voi vogliate potete scrivermi in direct potete mandare un messaggio su whatsapp che trovate il tasto collegato diciamo a questo video e soprattutto ricordatevi ci troviamo a per cotto in piazza della vittoria 7 in provincia di udine ci potete trovare anche ovviamente online nei vari siti e cosa importante sfogliate il catalogo online che trovate diciamo il link lo trovate nella descrizione di questo video ma lo trovate anche in sovraimpressione adesso ragazzi grazie e vi aspetto ci vediamo domani per un'altra grande sorpresa vi ricordo che saremo aperti tutte le domeniche del mese di dicembre compreso anche venerdì 8 se non ricordo male un abbraccio saluto le ultime persone collegate che sono sabina sandrino e ledesma ragazzi grazie ci vediamo dopo o domani per un'altra diretta un abbraccio